Tu ma noi non ci mettiamo mai d'accordo prima, il bello di questa rubrica delle nebbie e del nebbi che le dissipa prima di tutto me. Questo pim pum pam in effetti mi ricorda un po' il Marinetti. Marinetti, Marinetti, Marinetti. Invece? Artur Rimbaud, guarda il grande poeta, il mio poeti. Le menti rotte, quelle che hanno subito colpi di cannone, che sono state galoppate, depredate, assegliate, che sono morte di fame e di sete. Quelle sono le voci da ascoltare, le voci che non sono scieche. La grande storia dell'umanità. Fina via di qua, ci voglio stare io, col cavolo, questo posto è mio. Pim pum pam, botte d'orbi, dolore e morte, vince il più forte. Pim pum pam, morte e dolore, vince sempre il peggiore. Marinetti. Questa è Marinetti? Eh certo, Pim pum pam. Scuola. La scuola umana, la storia umana, è una catena di orrori. Mettete in salvo i bambini, che sia vietate ai minori. Questa di chi è? Mia. Ha 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 ha. Ha ha ha.